Oggi, nell'ambito della rubrica Comunità Resilienti, siamo a Lioni, dove conosceremo uno dei più importanti e tradizionali eventi che si svolge in questo paese, ossia i famosi Riti di Fuoco. Riti di Fuoco è una manifestazione culturale sulle tradizioni antiche, leggende e Riti Irpini, che si svolge a Lioni ogni anno l'8 dicembre. Nel corso dell'evento vengono accesi dei grandi fuochi nel centro storico, accompagnati da diversi spettacoli e stand enogastronomici. È un evento che innescola leggende, tradizioni, i Riti di Fuoco ripercorrono un antico detto leonese, chi tenia lo pane morì o chi tenia lo fuoco campò, proprio a sottolineare l'importanza del fuoco. È frutto di una continua ricerca, volta a rivisitare la storia. La manifestazione infatti tra i origini della Madonna dello Fuoco, tradizione lionese attraverso la quale persone di ogni età raccoglievano la legna, impalavano falò e accendevano un grande fuoco per rendere omaggio alla Madonna. È un progetto folcloristico, antropologico, nato nel 2018 con l'intento di rivalorizzare il territorio, il centro storico e i prodotti tipici locali. Il nostro obiettivo era quello di creare un momento di incontro con le tradizioni e realizzare un ponte tra passato e tre. Quest'anno a causa del Covid è il secondo anno e non abbiamo potuto strutturare questo importante evento culturale. Speriamo di poterlo fare in un futuro, ma comunque in tutti i modi è un dato importante il fatto che ha avuto nel corso degli anni una partecipazione di proporla presto strutturata in questo modo. Ci auguriamo che ritorneranno altri mille viti di fuoco. Grazie. 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 Grazie.